Valeim, un gioco da 15 euro che ne vale molti di più. Benvenuti su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build e guide dei vostri giochi preferiti. Ho visto che questo format è piaciuto parecchio e ho avuto un bel feedback da parte vostra, quindi visto che ho iniziato da poco a giocare a Valen, volevo portarvi le mie impressioni. Ho iniziato da circa tre giorni questo titolo e ho già 48 ore di gioco sulle spalle. Questi sono i giochi che a me piacciono infinitamente, è per questo che sto aspettando anche New World, ma voglio essere il più oggettivo possibile, quindi vediamo com'è questo titolo e se ne vale la pena comprarlo. Valen non è un titolo che cerca la gloria, lo si vede fin da subito, costa 16 euro su Steam e pesa se no un giga, capiterà soli che gli sviluppatori non hanno cercato di fare un gioco da macella slogata, ma hanno voluto sviluppare un gioco divertente, completo e su cui ci si può passare centinaia e centinaia di ore. Parliamo quindi della grafica, le prime due ore bisogna assolutamente farci l'abitudine, l'occhio si deve abituare a questa grafica pixelosa che ricorda Arc ma in realtà è anche peggio, molto peggio, ma se superate questo scoglio il dopo andrà tutto liscio o più o meno quasi. Il gameplay è classico, Arc, Ultima, Minecraft, sono tutti giochi uguali a questo, chi più nuovi, chi più vecchi, ma lo spirito è lo stesso, inizi nudo e qualsiasi cosa fai la fai perché devi sopravvivere, devi skillarti, devi costruire e imparare, nulla ti viene regalato, nulla ti viene spiegato, sta alla vostra intelligenza e fantasia imparare ad evolversi o morire, ebbene sì, il gioco è parecchio punitivo e i mob non vi lasceranno molto tempo per capire fin da subito che dovrete difendervi. Il mondo è procedurale, esplorabile fino all'ultimo centimetro e strapieno di diverse zone, boss, mob di vario genere e perfino dungeon ed ognuno vi lascerà qualcosa per evolvere o costruire qualcosa che vi serve, nulla è lasciato al caso, tutto è utile. Che dire, questo è un gioco in early access, cioè è veramente stupefacente, Valeme è quindi assolutamente un titolo valido, soprattutto se giocate in cooperativa, perché potrete crearvi il vostro server privato con i vostri amici e vi lascerà affranti e felici allo stesso tempo, facendovi passare ore e ore in risate e parecchie frustrazioni per le morti, la maggior parte evitabilissime, tipo prendere una nave e schiantarsi contro uno scoglio e morire. Dettagli. Quindi Valeme costa 16 euro, se anche solo vi è piaciuto Arco, Minecraft o un qualsiasi altro tipo di videogioco dello stesso genere, è assolutamente da comprare, soprattutto perché finalmente si possono fare i vichinghi. Spero di esservi stato utile, anche stavolta, sulla scelta se o meno comprare questo titolo e noi ci rivediamo con il prossimo video. Fatemi inoltre sapere qua nei commenti se volete delle guide su Valeme, perché potrei essere molto interessate a farle. Con questo è tutto, noi ci rivediamo al prossimo video. GG a tutti quanti.